Petrucci lei ha scelto di scendere nuovamente in campo ma a differenza di 5 anni fa corre in solitaria. Che cosa prevede la legge in casi come questo? La legge è chiara, la legge dice che bisogna intanto raggiungere il 40,01% degli eventi diritto. Mombaroccio ha 1.661 votanti, pertanto 665 il quorum da raggiungere. In seconda battuta prevede che di quel 40% almeno il 50% siano schede valide, quindi occorre raggiungere due quorum. Innanzitutto quello del 40%, il secondo quello del 50% per le schede valide. In caso contrario qual è il rischio? In caso contrario la soluzione sarà adattata dal Ministero con il commissario prefettizio. Quindi non ci sarà più un sindaco, non ci sarà più un'amministrazione, non ci sarà più una giunta con cui confrontarsi, ma un commissario prefettizio sostituirà il primo cittadino, nonché l'amministrazione comunale. E se si lascia un comune nelle mani di un commissario che cosa potrebbe accadere? Sicuramente nel rispetto naturalmente della prefettura e dei commissari prefettizi verrà meno il dialogo, verrà meno il confronto, verrà meno quello che i cittadini trovano nell'amministrazione comunale che la Costituzione e nonché i principi di una Repubblica vedono. Nel confronto con l'amministrazione, nel confronto con i suoi consiglieri, nel confronto con la Giunta, nonché con il candidato sindaco o il sindaco dovesse essere rieletto. E questo è un principio che purtroppo sta venendo meno. Non so se avete fatto un sondaggio a livello nazionale, ma i dati sono chiari. A votare ci va sempre meno persone. L'assenteismo è sempre più dirompente. Io mi permetto di dire che quell'assenteismo può essere legato anche alla mancanza di comuni. Il venir meno dei comuni porta all'allontanamento dalla politica, perché poi il riferimento del cittadino, a prescindere che la competenza sia comunale, provinciale, regionale, ministeriale, europea, il cittadino vede sempre nell'amministrazione comunale un punto di riferimento. Pensiamo alla fibra, un disservizio enorme a seguito di un bando ministeriale, e i miei cittadini mi chiedono in continuazione a che punto sia la fibra, cosa fa l'amministrazione per la fibra, cosa fa l'amministrazione per la sanità, come per tanti altri aspetti. Quindi viene meno il bardoardo territoriale, il punto di riferimento per i cittadini. E se viene meno quel punto di riferimento, viene meno anche la speranza, viene meno la concretezza, viene meno la vicinanza del cittadino alla politica. E questa è un'analisi che volevo riportare. La seconda analisi, che mi preoccupa di più, almeno per quanto riguarda il mio piccolo comune, è legata al fatto che c'è qualcuno che lavora affinché non ci sia un sindaco, ma ci sia un commissario perfettizio. E questa è la cosa che non accetto. Non l'accetto perché lavorare in maniera subdola, non voler presentare una lista, non per contrapporsi o per far sì che la politica sia confronto, contrarietà, rispetto delle scelte, non rispetto delle scelte, ma comunque confronto, perché io ho sempre detto che una forte minoranza vuol dire avere una forte maggioranza, vuol dire lavorare al meglio per la cittadinanza. Il tentare di non portare una lista al voto per far correre una sola lista, con l'obiettivo di non raggiungere quel 40% di cui prima dicevamo, è un tentativo subdolo per far sì che non posso vincere, ma voglio far perdere tutti. E farci perdere due volte, perché da quello che mi giunge dai miei concittadini, l'obiettivo è non far raggiungere quel 40% per raccogliere altre 200 firme e consegnarle al commissario prefettizio per tentare di nuovo l'incorporazione in un comune più grande. E questo non lo possiamo permettere. Andrebbe di certo discapito di tutta la comunità, a questo punto qual è il suo appello? L'appello è innanzitutto rispettare il principio fondamentale che i padri costituenti e la Repubblica italiana ci hanno insegnato 77 anni fa, il 2 giugno sarà una giornata simbolica da questo punto di vista, anche sulla base di quello che ho detto, quindi andare a votare nel rispetto di chi ha dato la vita per il voto. Ma soprattutto non disperdere un lavoro immenso che è stato fatto in questi cinque anni, non da me, ma da un gruppo che ha lavorato, dai cittadini che hanno voluto un confronto, dalle associazioni che hanno sempre collaborato, quindi da una cittadinanza che in questi cinque anni si è dato da fare per rispondere a un percorso che era quello poi del voler far scomparire il nostro comune nel 2016. Quindi una risposta che va data ulteriormente in questa istanza, ulteriormente l'8 e 9 giugno, si voterà l'8 giugno dalle ore 15 alle ore 23, sabato, domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23. Due schede, quella europea di colore rosa-rossastro, quella comunale di colore azzurro. Mettete una croce su Ancora più avanti, Emanuele Sindaco. Mettete una croce su Ancora più avanti, Emanuele Sindaco.